Presto sarà ristabilito il collegamento con la res pubblica, siamo stati con Presco a fare pulizia, ora la cascata dello schiappo è raggiungibile perché almeno il grasso del sentiero è stato fatto, per cui dall'ingresso di via Mola Nuova fino alla cascata dello schiappo è una prima pulizia stata fatta ed è raggiungibile. Ora poi il 16 e 17 saremo tutti ad operare per le rifiniture staccionate e quant'altro, quindi ecco vi invito tutti a partecipare sabato e domenica. Arriviamo al ponte Pionono in un tappeto di neve che è una meraviglia. Il ponte Pionono è un altro nostro obiettivo da aprire e far rivivere perché collega la parte diciamo nord della città con il centro storico, basta fare una scala che sale fino al tunnel di via San Gerardo. Questo è l'accesso da via Mola Nuova, il nuovo accesso sul sentiero demaniale dopo la casa estacionata dei Rom.